In questi giorni dove alcuni episodi di cronaca scatenano il dibattito sul rapporto tra forze di polizia e cittadini, l'incredibile storia del ragazzo appolaiato sul davanzale del suo balcone al quinto piano per oltre 40 ore con la costante minaccia di buttarsi giù e salvato grazie alla paziente e certosino lavoro di negoziazione e supporto medico-psicologico della personale della Polizia di Stato di Pescara rimette un po' le cose al suo posto. Questa mattina intorno alle 10 il 23enne ha deciso di arrendersi e di liberarsi dall'insano a proposito di farla finita affidandosi alle cure dei medici, della Polizia di Stato e dei sanitari che insieme a vigili del fuoco, polizia locale e personale del 118 hanno vigilato dal primissimo pomeriggio di mercoledì scorso fino a questa mattina. Siamo felici perché la Polizia di Stato e la Questura di Pescara è riuscita a mettere in sicurezza un giovane un giovane che aveva bisogno del nostro aiuto, un giovane che registrava un momento di disagio siamo stati in grado attraverso un'equip che lavora da tempo in questo settore aiutati anche dal Dipartimento dell'APS che ci ha dato tutta l'attenzione del caso fornendoci personale particolarmente qualificato, sono negoziatori e un quadro di psicologi che sono dedicati a questo tipo di emergenze. Emergenze che si registrano in tutta Italia e questo fa comprendere l'attenzione che la Polizia di Stato ha verso le fasce deboli e verso i momenti di disagio che possono interessare i nostri cittadini e i nostri concittadini in questo caso di questa città, la città di Pescara. Cosa ha fatto ad esistere? L'attenzione che la Polizia di Stato ha voluto riservare, ha voluto dedicare tutte queste ore. Lui si è sentito, secondo me, particolarmente attenzionato, particolarmente, come devo dire, avvicinato da noi. Noi abbiamo manifestato non soltanto la nostra professionalità ma l'umanità profonda che contraddistingue le donne e gli uomini della Polizia di Stato. Avete capito i morti del gesto? È un momento di disagio. È un giovane, ha 21 anni, ha perso uno dei genitori, la solitudine e probabilmente la non completa attenzione di coloro i quali forse dovevano dedicarsi di più alla sua vita. La difficoltà principale era gestire il calo psicologico, gestire il momento di disagio ulteriore, la confusione mentale che poteva avere in quel momento questo nostro concittadino, questo ragazzo, perché il disagio mentale è quello che poteva portarlo a fare un gesto estremo, cosa che ovviamente, e questo credo che si possa notare anche dal mio atteggiamento di oggi, ci ha consentito di essere particolarmente soddisfatti per quest'operazione che riporta integralmente a casa sicuro e sereno un nostro cittadino. Grazie. Grazie.